Siamo Leandro, 33 anni, vengo da Bergamo, ora vivo a Milano e mi occupo di MilanoFashionTour.com Io sono Chiara, vengo da Biella, vivo da 10 anni a Milano e anch'io con Leandro ho avviato questo progetto. Dice che cos'è MilanoFashionTour.com? È un tour degli atelier e degli outlet che ti offrono il massimo delle marche a prezzi stracciati. Sono degli outlet che selezioniamo personalmente ed è il primo vero tour che si occupa di queste cose all'interno della città di Milana, quindi dando un po' di freschezza al tour perché poi uno sta nel quadrilattro, alla fine è sempre lì. Partendo da un'esperienza di marketing mia, un'esperienza di andro di comunicazione, abbiamo creato una lista che si aggiorna continuamente di outlet e atelier e boutique anche, in cui abbiamo sconti speciali che riflettono il panorama della moda nel modo più aggiornato e più divertente possibile, come è la nostra esperienza di shopping. L'idea è nata andando negli Stati Uniti e guardando come il Made in Italy viene ben considerato e allora vediamo di farlo considerare anche in una città come Milano e da qui quindi li invito a visitare MilanoFashionTour.com. o a Kate, tanto mi ha comprato anche quelli.